Ah ma è la... quella moto di merda Bravissimo! Sono io lo sfigato a due ruote Cosa? Bella eh? 700? È divertente, è divertente E invece no M***a fortuna che non sono passato Stavo dicendo, potrei passare che non c'è nessuno Mi giro e c'era la polizia Caro, ciao patazzino Ma ciao! Vediamo cosa c'è scritto Vai Sei un cesso Questo tatuaggio l'ha fatto un mio amico da ubriaco a Los Angeles Ci deve essere scritto 1106 Beh ma non serviva a far vedere tutto il culo 125 ma c'hai i rulli malossi M***a credevo che era 300 che andava un po' di più Settimana prossima ci metto la trasmissione tutta completa M***a puoi parlare un fattaccio eh? M***a che te lo dico a fare? Ho parlato tutta la sera così Ma per noi compari non ci sta problema parlare così Se troviamo qualche compari però lo sai ci scocciano poco perché Magari ci dicono eh ma tu ci pigliesti il buculo per parlare così Anche perché ti trovi quello doc no? Eh venga questo qua ti dirà fuori la pisciata ti dice adesso tu smetti di fare il credito Se no ti faccio saltare la testa e berri in 5 secondi ma tutto col fiatto così che non senti mai che respira Andiamo a comprare i nuovi iphone Ma tu hai imparato un po' di pennare? Sì Adesso ti faccio vedere Se no mi schiaro Ehi cracca Ma sono tutti a comprare l'iphone Guarda quanta testa Che ridere Mister gomme quadrate Io ti dico per le strade di Milano Vi vediamo in fuori? Vi vediamo in fuori Va bene rega facciamo gli unboxing L'apertura dei pacchetti tutti e tre in contatto Ah che bello Sento come i giambini a fornare Sego tu a tutti i cagli Guarda Auguri Beccati Beccati Uno due Ma io non voglio fare Eh attentelo così allora che c***o muore Uno due Posso lo facer Fuori Adesso già lo accendi Ecco ma pensi Tu cosa te ne fai di un telefono spento? Farebbe ridere se tu ti schiantassi proprio davanti Hai la patente alla macchina? Sì Io lo so Anche bene 05 Che poi 05 vuol dire 098 dai Perché tanto quando si fa il test si Si dicono vabbè Mi è capitato in Svizzera Cosa facciamo in Svizzera? Alla le prostitute Nooo Stiamo andando a mangiare il sushi Chi è che ha preso un 21 Perché partiamo in tutta la salsa di soia 2,4,6,8,10,11 Oh facciamo uno sparo Ragazzi ma che ti ne sto mangiando? No no facciamo uno sparo adesso Ci mettiamo lì e partiamo No bro Se tu spari La mia moto Arriva qua E io all'ospedale Porca Sì mi sa che conviene andare a lavarle Guarda che me E che quando tu chiodavi mi riusciva fuori E tipo io quello che avevo già ingoia ed era riuscito Mi sono spaccato una gamba quasi l'altro giorno Ah porco Che cazzo hai fatto? Eh sono caduto 1400 watt a motore 5600 totali Porca troia Sai tipo se ti arriva sulla caviglia Vero? Anche la retta Sai che roba Tipo uno è seduto E tu glielo lanci sulla schiena A tutta velocità Ma è lì No è lì No è lui che scorege Ma sei non andato insieme Dammi la mano E' accelerabile E adesso mollala è tutto gas Ma lasciaglielo no poverina No 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 chi lascia Ma sei un figo Ma è bellissimo Quanto ti costa stappare 1200 Io sto impennando la moto di Filippo E' potentissimo Oddio ma che cazzo di moto è E' strafiga Manca tanto così per la targa Se vuoi posso provare però non so se te la spacco Ora che arrivi qua Diocaro devi essere proprio Oh Basta 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 Il sole va di là E passa attraverso quei due palazzi No intanto non è il sole Che si sposta Ma è al centro Allora ho preso un guanto Quindi vado via solo col destro Ok C'è un rischio che facciamo un incidente Penso che sia il fatto che non hai il paraschina Più che il mio secondo guanto Ah ma quanti ne rimorchi con la moto Così tante che sono ancora single Di chi è questo? Mia Perché c'è una Perché sta a mi mettere le ho le wings Se tu lo vuoi tu lo sai Una di due Ash mi ha invitato nella sua casetta Non c'è il bidet Ah ti pulisci il culo sul No lo pulisci con questo coso qui Ah con il culo Quello di che cazzo c'è Oh è sotto casa Se io faccio così Un chilo di patate E te lo lancio Come si chiama? Ciupa Ciupa Patato guardalo Patato Oh È troppo bello Adesso sacrificio agli dei No No Sì ma è troppo bello Stavola Sì Posso accendere qua? Vai vai Beh speriamo un girino a destra dopo Oh sì Bisogna pagare 3 euro Mentre la sua spessava fra la sentita Ciao caro Ciao caro Eh grazie cazzo Ora o dopo? Dopo Ora Ma ho sempre pagato dopo Sì Ah allora Ti metti bello piegato Biancino vicino Hai mai partito? No È la prima volta No Bello duro Ti rifa la faccia Ah bello Vai posizione Phil Posizione Phil È andato È andato ed è morto Ci riproviamo? Sì posso riprovarci Uno Uno Sotto Oh Io apriamo questo Oddio No No abbiamo il bidet In the house Perché il bidet È dentro quello Non è vero È come quelli a Tocchio C'è per la misura del comandino No lo stacchi Ti cazzo dici? Qua hai il getto per il Non è vero Ciderino Non è vero Posso? No no ma togliati i pantaloni Togliati i pantaloni No Togliati i pantaloni Ti guardiamo No Sono più un vittore Alessia Ha detto di sì A guidare la moto Sì Sarà l'ultimo video Del canale Della serie Sì 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 me ne prendo la responsabilità Firmiamo qualcosa Sono cacchitoi Se mi rompo io Sì è finita Sì vai tra Vai tra Ma te li sei davanti direttamente Ma sì infatti Dove sei avanti direttamente? È la mia moto Cominciamo bene? Scarpe? Si sporcano C'è la possibilità Un po' forse si sporcano Allora le fatti No perché la prima Però non prendere quei tacchi Cioè No Ok Ok va bene Non segui dare Mi hanno detto Dalla regia Mi hanno detto Sì La patente 125 Ma l'ho presa A marce A marce A marce Nel 2017 Ma di strada Beh magari dopo Cioè una volta che hai imparato Cosa è? Quindi io Mi piace andare in moto All'inizio Cioè mi piace andare in moto Ah sì Ti porto io Ti porto Io sto bene seduta Come va Siamo tranquillissimi Ale tu salirai qua Ah se vuoi No A me piaceva quella comunque Ah ok va bene Tu vai dietro di Phil Phil è famoso perché Impenna Ma che impegni di che cosa No no Non è vero Ma non è vero Ma non è vero Sì invece Quello che impegna Io ti faccio tagliare la potenza Da mio padre Perciò vedi tutto Alla superare carabiniere Ah Fa niente Scherzavamo Allora non c'è nulla di Che bello che sei leggera Dove mi devo tenere? Finiti pure su di me Su i ciali Non ti doi le maniglie dietro? No Sono tranquilla Se tu devi andare vai Sei tranquilla? Sono super tranquilla Ti preferisci più sportiva O più tranquilla la vita? Sportiva Più sportiva ok E io che pensavo Che volessi andare tranquilla Ho detto vabbè Vado tranquilla Ma non mi piace Tu piedi Come è andata? Benissimo Molto figo Molto figo Com'è il pennare? Allora la prima Voglio occhi chiusi Alla seconda Molto divertente Tu come ti senti? Bene Ma lei è gasatissima Io pensavo si cagate Adosso Infatti ero la tranquilla No ma lei non ha paura di niente Sì vabbè Invincibile Raga Prima di iniziare a impennare Ok Tirare bene sulle palle Toccarle con entrambe le mani Perché ragazzi Pericoloso Ma io non mi fiderei E' uno che ti parte così È arrivato il momento Con Simo dietro Che va La prima verso il basso E a salire E a scalare verso l'alto Oh mazza quanto pesa Ok Ci tocchi sì? Sì con le punte Con le punte Per mettere la prima Devo passare a questo punto qua Esatto Esatto Non mi impanicherò Vuoi farlo te? No no Ok No no Metti la prima Rasta piano piano Io vi consiglierei Nuno di non stare assolutamente davanti Ok 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 perfetto Stai partendo a cannone Ragazzi io vado Ok tira l'attenzione E impara adesso a fermarti Esatto Così ho fatto morire la moto La macchina Magari tieni due dita Qua sul freno Che ridere È una cosa naturale questa Così C'è una posta a fare Io confido nelle mie capacità Qualità D'intelligenza Ok Ok Vedete nella moto Ok Io vado eh Aiuto È molto divertente Bravissima Piano 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 Ragazzi spostatevi perché va bene tutto ma sono un pericolo pubblico sinceramente Mi raccomando di farlo agli altri perché qui non ci credono Ti faccio un giro poi me la lascio No no tranquillo vai vai Poi non vale più il content Devi fare qualcosa tipo che ti schianti o cose del genere se no non vale Vado la bambino Cioè lei è bravissima Tracking gas Sì sì Ok è stato molto divertente Grazie mille per avermi fatto questa cosa È stato fighissimo Magari quando qua trovi Comprerò una moto Ho messo più o più asce Piano asce Beh ve la contendete Brava? Sì già sapeva Secondo me Sì sì stava Ci ha preso in giro 100.000 like Sì con la sdraia Cosa? Ma come sta andando adesso? Vecchio Stiamo Sto spaccando Adesso lo faccio grattare È un po' una sega Vemmdillo Puoi provarla? No grazie Grazie mille Guarda che potrei anche togliere il traction Cosa potrebbe mai andare in scelto? Com'è stata? Frate me lo chiedi pure Non mi hai visto bravo Non sarei sceso manco fino a domani Facciamo il cambio moto Dicono che va tanto piano Sì Ma sì Cioè dipende da come lo usi Vecchio Io lo tengo sempre a limite È come il pisello tipo Esatto Cioè anche se ce l'hai piccola La cittadina Cioè non c'entra Alla fine Dipende da come la usi Sì a meno Cioè non c'entra Cioè non c'entra